La polizia di stato ha arrestato Salvatore Puntaloro, 32enne, Salvatore Orlando, 24enne. Sarebbero gli autori della rapina commessa lo scorso 3 settembre nella casa a Mondello dell'avvocato Gioacchino Sbacchi. Ad agire, secondo il racconto del penalista, erano state quattro persone. Erano armate di pistole con il volto travisato dai passamontagne e dai cappucci delle felpe. Hanno legato l'avvocato, la figlia e la governante mani e piedi servendosi di alcuni vestiti strappati e hanno messo a soquadro la casa dove sono rimasti per circa mezz'ora. La sezione antirapina della squadra mobile di Palermo ha eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere e messa dal giudice per le indagini preliminari Maria Pino su richiesta del pubblico ministero Vania Contraffatto alla quale è subentrato il sostituto procuratore Ennio Petrigni nei confronti appunto di Puntaloro e di Orlando. Il vicequestore Silvia Como racconta i particolari della violenta rapina. Una rapina piuttosto violenta come un po' quelle che poi succedono spesso in queste ville. Ci può dare qualche dettaglio, dottoressa? Sì, si tratta di un comando di quattro persone che ha fatto irruzione nelle ore serali. Noi oggi abbiamo arrestato due persone, sono attive comunque indagini per cercare di arrestare anche gli altri. Sono entrati e hanno immobilizzato le vittime legandole con degli indumenti lì trovati, li hanno minacciati. Si capiva anche che li avevano pedinati da alcune battute che i rapinatori stessi hanno fatto nei confronti delle vittime. Un colpo comunque studiato nei minimi dettagli e che ha affruttato ai malviventi diverse migliaia di euro. Il bottino è consistito in alcuni soldi contanti, in un Rolex, alcuni cellulari. Per chiudere, le vittime sono state anche percosse? No, percosse no. Sono state minacciate, percosse no.